I Bari Caffè Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo dagli anni 70 ad oggi con New Style & Janka Scommettiamo che ti diverti? A Voghera in via Fratelli Rosselli 139 Giovedì sera l'I Bari Caffè è stato celebrato in grande stile il compleanno di Max Latino Insieme a lui la Silvania Mi regaliamo un po' la salsa Poi dovremo fare l'animazione Se riusciamo se lo mettiamo prima dono al certo Uno, due, due preferite Direttanti allo sbaraglio ma non solo All'I Bari Caffè ha preso il via La Corrida Il grande torneo di ballo latino-americano organizzato da Max Latino Il grande torneo di ballo latino-americano in palma di Bari Caffè, il grande torneo di Bari Caffè,ドン Mali Caffè,場 Pubblico, siete concentrati? Vi voglio assolutamente imparziali. Seconda doppia, di Stefani, perfetto. Seconda doppia, di oggi, il loro gioco di casa. Vino, vino, rosa e vino. Adesso un applauso generale, vai! Un applauso generale, la roba applausi. Prima coppia da giudicare, Pubblico! Seconda coppia, Rego, Stefani, passavanti, grande, Pubblico! Terza coppia, un commento caldo, divertente! Alla sempre, un commento caldo, ora sempre! Un passo avanti, Pubblico! Riproviamo, per essere sicuri, mi sembrava più carico. La prima coppia, la seconda coppia, la terza coppia. I vincitori della prima puntata della tua vita di questa sera, i vari caffè sono Pino e Laura! E passano direttamente alla finale!